Ben ritrovati sul mio canale, sono qui con un'amichevole online con Valenzasta98 Io sono il Tottenham, lui è il Chelsea Prima stavo registrando però mi si è bloccato tutto Stavamo giocando un'amichevole con Bayern 1 per Madrid Abbiamo finito 0-0 E però non posso caricare un dato subito Guizzo di Adebayor Che cerca una triangolazione Subito partendo da Ramirez Ramirez a suo cotone A suo cotone Funzione Appena a suo cotone si va a vedere pericoloso Perchè può rompere una gamba Ivanovic, ora in partenza Gareth, 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 Gareth Ramirez Gareth Bale, un giocatore molto prolifico Come Bentner A su e cotto A su e cotto A su e cotto Noi due ed M6 Palla pera di Bayern No vedi scusate Cazzo no Che stop di fai vedi Vedi che stop di merda Vedi che stop di merda Pesano per altre eraci Diretato Luigi Gareth Bale Cerca appoggiare compagni Per tempo sale di numero Azzinzune Giù Grandissima parata del mio portiere Non so chi sia Non mi ricordo Non so qua A pensare Perchè dopo questa parata Odipayor Tutto lui E poi il vangato David Luiz Senza problemi Può servire il compagno Che si libera Intanto si gioca per Oh è offline E ora offline Scusate Scusate Guardi i barbi Il centro Molto prolifico Che è Cazzo fa Stavo guardando per te Ero sbagliato Mi savo che aveva palla Alcesto Tanto si va a vedere Lampard Basta che Hazard Non tocca palla Oscar Corre Se lì 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 Alcesto Per un anno Non va alcesto La grande parata di Ah Ecco chi è Capito chi è L'Oris Anche della parata Cazzo E' il terzo 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 E' Pegolo E' anche Moscardelli Perchè può fare Tutti i ruoli Tanto beh Beh Parlando di Moscardelli Beh Uno uguale Tanto sballa tutto Beh Lei è invalido Con il piede debole Invalida Tanto balla Sono a sei punti Stiamo Con la testa Colpito Sono tre punti più di lui In divisione Si non ha colpito bene Sprecando una buona opportunità Per la sua squadra Ma là Per Gareth Bale Che non ci arriva Doveva scegliere Una squadra Un po' più forte Infatti quattro No Cazzo Peccato Ha sprecato Un ottimo servizio Le compagni Bale Nel Bale Il gioco Matteo With the ball Gareth Bale L'altra volta L'abbiamo battuto con il Tottenham La stagione Nel Bale L'unica cosa un pochino buona che la difesa è baggata attenzione Walker Sandro Vena 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 che insieme a Asti non so che non so molto bene scarica superparte attenzione capo l'interopo capo l'interopo l'azione capo l'interopo l'interopo Mertonghen gravissima palla in mezzo alla difesa c'è addirittura Mata spreca qui sto giocando da schifo io ho fatto un tiro mentre c'è se ne va di 7 di merda però palla da un'altra parte che cazzo di controllo mi fa Lennon Lennon sbaglia io ho poche occasioni ma quelle che c'ho sono pericolosissime davanti alla porta poi se mi trovo i giocatori invalidi che non riescono a buttarla dentro il giratore scuola palla lì dopo prenderemo la fuga di buona come ispira per me siamo assistendo a una grande azione da parte di Fernando Torres ora deve lunghiare Lennon Gareth Bale Gareth Bale aspetta l'avanzata dei compagni per dare una palla a Demsey pelosa di mi guardi un petosa attenzione Fernando Torres Gareth Bale si appoggia a Demsey si appoggia a Demsey a Demayor Bale non sa neanche lui come ha fatto dargliela Bale 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 non ci credo Gareth Bale ha preso il palo ce l'avevo sul sinistro volevo fargli la tirare di sinistro e mi ha tirato di destra Bale una palla di De Bale che non si neanche lui come ha fatto darla e Orameel 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 con il destra ragazzi non ci siamo Lennon non si è potuto scontare al meglio il contropiede mamma mia ma non so chi palla le ha dato De Bale non so non sa neanche lui si è stupito delle sue capacità De Bale per una volta De Bale da regista Fizzoli tocco fino Demsey Lennon Bale 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 ma perchè mi tira col destro c'era sempre su sinistro un tiro di destra Garry Bale ma entro cabulli in dercune l'arbitro dice che può bastare 0-0 0-0 Maris venga assolutissimo dal Tottenham con un palo a porta vota di Garry Bale c'è un assistente di media di Bayora che sta sta stupendo il tifosi tipo sta guadagnando il posto invece di Defu salgono i compagni para dentro e qua ai 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 Ramirez pallache esce esce Zeripa Torres che vanno a pressare altro Demsey mamma mia che stop di Demsey non sa cos'è uno stop Demsey di il 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 stavolta campi per Garry c'è campi per Bay si era staccato daviduris bastava che la metteva a giro no le la tirò addosso mamma attenzione passaggio top prevenibile passaggio top prevenibile nel mele Bale 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 e ora le cose per gli celtici si copriano in uno e meno con le scuole scuole co il rapporto in c'è il rapporto c'è la superifica orale l'amica grazie ora contro p contropiede la mia difesa non è piazzata bene offline vado dentro e l'ha fatto colmata e l'ha fatto colmata l'hanno lasciato solo sono tutti i saliti per il calcio l'hanno c'è sì che stanno facendo schifo in questo secondo tempo anche l'uno nero è riuscito a segnare lennon vuole smentire vado 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 risponde così risponde così risponde così adegu 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 rete e devo fare prima loro gol per svegliarci dai nani ancora lampard torres torres non sa neanche lui che mi ha fatto dare la palla eccezione l'ingarde impetosa ora riparte gare 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 c'ha debba york che non corre un cazzo di fermo ad aspettare palla quindi gare 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 si ritrova lì la palla ancora gare 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 grazie gare gare sull'uscita di gare di scendia edicare l'organizzazione della c roma la merda, la palla non entra non c'è il tabulino tabulino del culo tabulino del culo vede Gareth, Gareth, Gareth stop, stop, non perfetto però agganciato palla fuori M6, Dembélé, Dembélé adizione il tiro non so di chi ancora meglio va dentro la partita è ancora aperta qua c'era un gol forse no, Lennon se ne va ancora Lennon se ne va ancora Lennon con le sue schillate palla dentro qua per con me stufato ma l'avancato a sui conto a sui conto non è bene lo scherzo Lennon 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 check 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 bello palla a scendere check 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 ebbene la volta contro John Maka Dembélé Dembélé allora palla di Dembélé malamente camu 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 si porta in avanti Lennon 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 perde palla a Garrett Lennon asad non so perchè la Garrett Lennon non so non so non so non so sono asad ci vuole walker bravissimo 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 c'ho un bel che è la seconda punta che gioca davanti perchè già sto giocando bene forse la la seconda punta che gioca davanti la carezza lennon lennon c'è i piedi marci però c'è solo grinta velocità lennon c'è l'amore lennon 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 è finita qui si sente alla prossima alla prossima un pareggio 0-1-1 scusate con l'idea del baglio remata si si sente alla prossima bella